Non ti dico neanche l'elefante più grande della giungla, il boss più superficiale del mondo, no, una torcia, non riesco a salire per colpa di una torcia No ma dai, dai, ma dai però, ma dai No, 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 basta, 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 basta Ciao l'equipe e ben ritrovi il nuovo rendezvous e il nuovo appuntamento di Crash Bandicoot Il secondo, non perdiamo altro tempo e andiamo subito con gli ultimi 4 livelli del gioco Della prima storia che è caratterizzato questa, questa è l'evoluzione di gioia Continua, se permetti Upstream, vai, si prosegue con il livello Ma dai, con l'acqua però, qua si muore subito Pundega Uno Eh, vabbè, vabbè, vabbè Ho perso tutte le vite qua, eh No, escono anche pesci che saltano Oh no, quanti erano fastidiosi, quei pesciolini, quanti erano fastidiosi Siamo arrivati, dai, 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 che ce la facciamo Primo checkpoint Abbiamo preso, non so come, a fortuna Dai, 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 che ce la facciamo Buono che ce la facciamo, con queste foglioline qua è sempre più facile prenderle Tac, 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 mamma mia No, mamma mia, che tempismo, che tempismo Un altro checkpoint Oddio No, no Dai, speriamo che ci... Dai col bonus, dai col bonus Ma guarda, lo sapevo, io lo sapevo, io c'avevo pure due vite bonus là ma dai mi aspettano due video alla fine dai per favore fammene prende sto stronzo ma fregato come al sempre il dottor ormai fatta abitudine vai no quei quattro casse che cos'è una cassa una sola cassa ho perso 4 papu papu il primo boss che bello cioè è bellissimo proprio non ce la fai e che ansia no e piano 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 ce la facciamo piano piano dai su quattro colpi dai su quattro colpi o uno è andato perfetto o mio dio buon due 3 taglie taglie ciao rischi dai che ci siamo rischi o mamma mia sul tuo trono è bellissimo metterti cioè pressionando 1 2 3 4 5 hai a casa papu papu era facilissima abbasso papu papu trofeo guadagnato macchina il tempo di coco di coco cos'è coco vuoi che si unisca la tua avventura premi r2 per passare a coco ma posso giocare con coco questo è facile per il momento bam 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 questo mi ha fatto fuori anche il nemico e ce l'ha bellissimo che spettacolo mi ha mancato mamma non so neanche io cosa ho fatto lì sì bravissimo così mamma mia fenomeno eh no però che cosa fai buono dammi le mele che mi mi servo per ripristinare la vita mamma mia mamma mia non lo so cosa faccio cioè non lo so davvero non lo so non lo so passato tre blocca e daje una vita guadagnata e daje daje ah c'è lei quella è la mamma e ok perfetto due su tre nomine manca un altro dove può essere quella faccina il professore ma non lo so neanche io come faccio giuro 62 su 87 sta diventa sempre più difficile oh oh purca dai riutilizziamo crash mancano due livelli e completeremo questa isola e poi passeremo alla seconda penso hog wild ah bellissimo questo si parte subito così col maialino mamma mia quante avventure con questo maiale checkpoint aia ma dai no che dici saltiamo quando lo vediamo quello tipo così va bene anche bravissimo e daje superato primo e due il terzo non mi ricordo mai come devo prenderlo qua di qua eh no 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 mi devo buttare a destra mi devo buttare mi devo buttare a destra si la terza a destra ma non prendo la scatola però non è giusto non ho preso la scatola e qua destra tengo sulla destra qua sinistra buonissimo prendo un'altra vita le scatole tutte qua destra mamma mia qua sopra quello l'ho evitato per un soffio qua giù mi fermo così oh oh sopra sopra di nuovo destra di nuovo per due due sole scatole non ne ho preso due sole scatole suggerimento vuoi dei comandi classici prova i tasti direzionali lo sapete che tutti noi giochiamo con le freccetta crash bandicoot ma io sono un pirla eh non va non buono ecco adesso dopo anni anni da quando ci giocavo ho capito finalmente che cosa servono le casse quelle morbide ti danno più mele in modo che puoi recuperare più vita non male averlo scoperto vent'anni dopo bam bam no aia ma bravo bravo ricadi ricadi ancora ricadi bellissimo come si schianta a terra al suolo morto già e dai eh perfetto check point vai pure tu a casa e no 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 dai 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 scimmietta no quella non sapevo che rimbalzava quella non sapevo che rimbalzava eh ma dai ma come fa una tartaruga a ucciderti a casa no aspetto e mo passo no ma dai no 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 ho perso dai dai ritenta ritenta come no ritenta si e no vabbè facciamo cerchiamo di farlo il più velocemente possibile altro crash bandicoat altro che rage game via a casa tac ah ah se vuoi ritornare il punto di prima buono lasciamo fare mamma mia che bello che goduria che goduria quanto le cose ti riescono no anche qui è pensato per qua mamma mia un pro un pro un pro guarda come vado guarda madonna quella non ci non ci voleva proprio ma guarda qua però hai scappato la bomba hai scappato la bomba eh ancora non è finito madonna bellissimo anche il bonus abbiamo guadagnato ok uno due no 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 così 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 ok i raggi game di oggi non sono niente in confronto al crash bandicoat di una volta ragazzi mamma mia che cosa stiamo facendo per due vite bene riproviamoci no no stiamo scherzando scherziamo vero scherziamo stiamo scherzando vero stiamo scherzando stiamo come si fa a cadere sono meglio a piangere giù e io me l'ho pure comprato ce la fai? dai ti prego dai oh non ci credo non ci credo ragazzi non ci credo 10 minuti su questo livello ok ok sì ci siamo ci siamo ok ok via andiamo via perfetto sì ma come puoi già arrivare non sono neanche arrivato no la fan cura le scatole ci prego dammi un'altra vita così a casa la portiamo via buonissimo dai l'ultimo pezzo gli ultimi mancano ultimi l'ultimo pezzettino l'ultimo sforzo allora sei idiota allora sei idiota che cosa è successo? cioè tutto quello era? cioè mi sono fatto prendere dal panico era tutto quello? stai attento davanti perdere tutte le vite a questo livello è da coglione e dai un altro checkpoint oh mio dio l'ho superata ecco a me un'altra vita due 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 vite due vite due vite mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia perché si cadi lì che cadi vai via a casa dammi un'altra due vite mai nella vita non ti dico neanche l'elefante più grande della giungla il posto più superficiale del mondo no una torcia non riesco a salire per colpa di una torcia questa è questa la torcia maledetta oh 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 mio dio ci siamo riusciti ho superato quel pezzo basta fermi basta mo basta eh guarda guarda ci sta la sporgenza dove poggiarmi no ma dai dai ma dai però ma dai no 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 basta 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 concludiamo qua basta basta è finito basta terminiamo qua questo secondo episodio bandicoot spero che vi sia piaciuto ovviamente lasciate un like un commento una condivisione noi ci vediamo al prossimo appuntamento al prossimo video con Crash Bandicoot sull'equip grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti